E' bella a tutti ragazzi sono Caneloizob, dopo tanto tempo finalmente sono riuscito a portare un nuovo episodio di questo episodio di Porto attraversa la fenditura Una missione che potete fare anche in singolo, ma che se la farete in singolo probabilmente faticherete molto E' davvero facile, la potete fare in una sola partita, quindi davvero easy, però veramente non sono stato contento di averla fatta anche in singolo Perché è stato soddisfacente, quindi attraversa la fenditura è una missione che dovremmo semplicemente tentare di attraversare la fenditura Insomma dovremmo difendere 4 cose, quindi vi consiglio di giocare anche in 4, anche se perdete tipo 1, 2 o 3 potrete sempre continuare anche se è rilento Quindi andiamo direttamente in partita, selezionando una partita precisa, ovvero stabilizza la fenditura e entriamo subito Ed eccomi qua in questa nuova partita, sono entrato nella stabilità della fenditura, una missione storia che non può essere fatta in qualsiasi altra missione Quindi dovrete fare solo quella Ok, la prima cosa che dovrete trovare ovviamente è una di quelle fenditure giganti, ovvero quelle brecce giganti insomma Che si trovano come al solito quando fate una... scorta la bomba insomma Distruggire la fenditura insomma, quando scortate la bomba avete presente quel tipo di missione E un'altra trovata dovrete uccidere un tot di mostri, adesso ci andiamo Eccola qui, eccola, lo vedete sta proprio qui davanti a me Intorno ci sono qualche mostro che dovremo sicuramente uccidere, come ci dicerei Una volta uccisi appariranno quattro laser Intanto piazzo due vertorrette giusto per far fuori i mostri che... i mostri indesiderati E metto le mie armi preferite Insomma, l'odore lo spacca timpani Ma onestamente c'è ancora un'arma che non sono riuscita a ottenere E mi manca veramente tanto Ovvero la falce a vapore Ok, dopo aver ucciso tutti i mostri Intanto seleziono ovviamente la... come si chiama? Il ferro, perché dovrò costruire un ferro, questo per sicurezza E ci farà piazzare questa roba strana che dovrebbe stabilire Zero, la fenditura? Figata, davvero carino questo Ok, dopo aver fatto questo dovrebbero apparire Eccoli qui, dei segnali dovrei schierare i laser Quindi dovremmo schierare bene quattro laser E proteggere questi quattro laser Io ho fatto in singolo perché ci riesco Io vi consiglio di farlo in pubblica perché... come posso spiegarlo? Io posso farlo in singolo ma penso che per voi sarà più difficile perché Appariranno molti mostri e non sarà molto facile da gestire Io perché utilizzerò trappole forti, cioè non troppo forti Non esagero, probabilmente già tutti hanno trappole 144 Ho visto Ma vabbè Io resto con... resto umile Uso le trappole giuste per le misine giuste Va bene Ho già piazzato due Laser Quindi... vabbè giusto raccolgo questo loot Non fa mai male Ecco il terzo Scanner E giustamente mi prendo un po' di mattoni perché il mattone a livello 3 è davvero bello per le decorazioni Quindi piazzo qua Vi sconsiglio di costruire quello davanti perché verrà distrutto dal laser Piazzo queste Giusto fanno... recuperano vita e anche fanno dei mostri, sono abbastanza forti quindi mi piacciono Voi potete piazzare quelle in un livello 3 e potete stare abbastanza sicuri Se no volete pure tranquillamente difenderne uno o due soltanto Però se li difendete tutti e due Cioè tutti e quattro sarà molto molto più facile per voi Anzi no, molto molto più veloce vincerla Perché uno solo è molto lento Tutti e quattro insieme finiscono la missione alla velocità della luce Io infatti sono rimasto piuttosto sorpreso di quanto velocemente l'ho finita Perché ho protetto praticamente tutti e quattro i laser Ho avuto delle difficoltà su alcune, però adesso ve lo mostro E tempo... all'inizio dell'attacco, sì, ci sarà il tempo Ah, era... questo è quello che mi darà più difficoltà perché... come posso spiegarvelo? Credo, non me ricordo se era questo Anche perché bastano tipo... tre trappole per ognuno E state al sicuro Se no andate... ci andate giù pesante Che ne so, otto trappole ognuno è perfetto Ho messo parra perché mi piace davvero... mi ci diverto proprio con parra Fa tipo una strage di mostri Ma veramente è troppo divertente vedere tipo tutti i mostri davanti a te Che vengono sciolti grazie alla frammentazione della freccia Ogni volta che uccide un mostro E poi grazie alla coxeno si attraversa i mostri Quindi si frammenta ancora di più Non vedo l'ora di aggiungerci un eroe del set fantascientifico Che sarebbe davvero figo Ah, è già che il suo non piazzo anche dei difensori Non si sa mai Fa sempre comodo quel che aiuto in più O comunque non gioco più in pubblica su certe missioni Perché, come posso spiegarlo A volte tendo a fare troppo Io e la gente praticamente si approfitta Non fa quasi nulla E onestamente io ottengo le ricompense Io personalmente mi sono un po' stufato Comunque non ho fatto un tempo a piazzare tutto il resto Ok Piazzo qualcosa Andiamo un po' a qualcosa di decente Perfetto Spero che vada bene questa mineralietta Anche se Sono andato veloce Qui ha spaccato il laser Come potete vedere Ma è sufficiente così E dovrebbe essere più o meno al sicuro Mentre la A Che sarebbe la A Non mi ricordo Ci ha preso un po' di pizze Ah, è questo Ok, giusto la potenzia Non importa se magari muoio un attimo Ok, come potete vedere Già vengo tormentato da tutti Ok, vorrei fare una cosa del genere Oh, molto meglio Almeno i mostri non ci possono saltellare dentro Ok, metto un altro difensore giusto al centro Lo sapete com'è, fa comodo Uno al centro così per Sfoltire la I mostri Sfoltire il proprio Perché ho visto che Ne appaino qua al centro Ma va bene Ok, se ne ho rispavolato Qui ho sprecato una vita Perché volevo subito piazzare Qualche tizio qui Perfetto Piazzato finalmente Due porterrette E ho risalto il problema Come potete vedere L'aumento della stabilizzazione È veramente rapidissimo Grazie al fatto che ci sono rimasti Tutti e quattro Ancora intatti Di solito capitava Mi ricordo Quando facevo Questa missione Che appena se ne distruggeva uno Diventava tutto lentissimo Quindi Era un po' Una sfiga Poi a un certo punto Rimaneva uno solo E Ci stavamo Circa dieci minuti interi Se non quindici Quindi vi consiglio Di tenere sicuro Tutti quanti Ah, vittoria In singolo Stabilizzare la venditura Valore gutta 64 Missione completata Con successo Quindi vado subito Alle ricompense Ed ecco qua Dopo caricamento Guattino di livello 5 Classiche cose Che ci danno le Missioni Insomma Questa è quella della partita Mentre questa è quella Della storia Che ci dà Del flusso epico Che a questo punto Voi potreste potenziare Tipo Le robe blu E l'epico Mentre io Onestamente Posso Ma già tutto Già tutto Quindi Non mi serve Al massimo Qualcosa Che non posso Non ho potuto Dettenere Lo faccio Al blu Però onestamente A me manca un'arma Del set precedente E deve essere blu Quindi sono un po' Sfigato Va bene Con questa chiesa Di tutto Missione completata Successo E ci vediamo con El Jack Prossima partita Davvero Molto Molto Rognosa Non sto scherzando Davvero L'odio E Con questo è tutto Ciao a tutti